ciao oggi ho raccolto un po di daikon, un po di daikon dell'orto ce ne sono tantissimi ancora da raccogliere vi dico come lo cucino io ultimamente lo taglio a rondelle e lo faccio rosolato in padella e lo aromatizzo con un po' del mio dado vegetale fatto in casa pure faccio la frittata con la farina di ceci insaporitoi erbe, origano tutto è valido per rendere ricco un piatto speciale fatto in casa ecco e cimicina, ragazza di casa ciao cimicina, partecipi anche tu? che bella che sei possiamo tagliarlo anche a julienne condirlo con un po' di limone e olio mescolarlo alle patate lesse e le foglie sono eccezionali, le tengo e non le butto ci faccio le frittate, le aggiungo nelle torte salate ci faccio anche una buona zuppa con un po' di porro dato vegetale fatto in casa acqua e dai con tagliato a rondelle e poi come ultimo ingrediente aggiungo un po' di miso poi se mi verrà in mente qualcos'altro vi dirò le altre ricette grazie